o buongiorno un cazzo ma perché perché si perché è da gioco a me affacciate affacciate eccolo si è affacciato hai detto che strille se il servizio non ti muove non ti muove però fermati no ti chiama nonna ti chiama nonna spurgatorio in accorda strangozzi strangozzi tagliatelle famo poi i ravioli i ravioli e le alzate laterali e le alzate laterali e le alzate laterali va bene vai bravo si ricomincia col botto mi sa che mi sto per trasformare come te trasformi si si diventa meglio dobbiamo dominati fa che stai fa 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 oh questo bel nonno che fa quel nonnino che fu perché non facete più che fa questo bel nonno che fa che fai o no? No, le minacce no, la violenza no. 30 gradi fuori, incredibile, si sta abbassando la temperatura perché sta nevicando, ecco è iniziato a nevicare, incredibile, sono riaperti tutti gli impianti scissici, Courmayer, Canazzei, Ortisei, Roccaraso, per passare pure per ovindoli, incredibile, ha nevicato, o no? Ma ha composto, ha nevicato? Ha nevicato? Ma qua ha nevicato, smettela di rompere. Ma quanti grammi sono, secondo te, a occhio? 30 gradi, buttami! 50 grammi di pasta, ecco è incredibile. Ma è possibile che mancano come mancano? Eh povero cocco, sei riperito. Vieni a mannare qua, qua, sta roba qua fatta da sta signora qua, questo signore là che arzuga, fate swipe, acquistate un qualsiasi articolo www.carlettolife.com. Ma io posso mannare, posso mannare qui? Ti trezzica la mano. È troppa, mettene meno. Ti pesa la forchetta o no? Ti riempie la bocca. Guarda come... Te trezzica la mano o no? Te trezzica? Che te trezzica? Eh? No, è la cosa più semplice. Ha ballato, incredibile. Balla. Balla? L'ha buttato lui con la buttato, lei lo prese su e la lascio, manca una goccia a te. Perché te trema il braccio? No, perché da me ne trema niente. Che te trema? Che te trema? Guarda tu coglia come trema. No, che quando hanno operato dal papa, mi avevano fatto anestesia e è scappata la bestemmia. Ma perché lei dice che ti sei trontano? Avevano segnato il papa. Vai via! Avevano segnato il papa, è vero? No, non è possibile. È vero? Vai via! Il papa com'è? È come il signore. Oh, ma adesso c'è il tagliere di sbolle, lascio qua. E che fa il papa? Che fa il papa? Magna. Che fa il papa? Prega. E poi? E poi dormi. E dopo? Prega. Ma chi ama il papa? Vai via! Chi ama il papa? Gli ultimi, no? Non è vero? Che fa il papa? Ma gli ultimi. Andiamo a finire! Miau! Eh? Eh? Quelle cazzate lì! Miau! Miau! Tant'era un piccolo, non è vero? Il camasforo lo sai! Miau! Ma io sono il gatto! Sto a parlare con questo... Oh no, guardiamo Capitan Tsubasa, dai! Ma restate qui? Ma so io, non è più il cantante, so io. Sono Federico, guarda. Sono Carletto, normale. Beh, questo è. Guardiamo Capitan Tsubasa, dai! Fermati! Dai, dai! E poi puoi via! Dai, dai! Tiro della tigre, no? Recapit... del tuo giro! È così potente! Oh no? È potente quel tiro? Eh, senti! Guarda, guarda, che è? Una tigre! Oh, e che ne so chi è? Una tigre! Tiro il pallone, il pallone diventa l'uccello, diventa tigre, diventa quello! E quindi? E quindi? E quindi non è vero io! E te piace Capitan Tsubasa? No! Capitan Tsubasa sta a perdere, poraccio! Eh? O no? Nessuno! Capitan Tsubasa! Da me ne frega niente! Vieni, vuoi vedere? È bello! È un bel cartone, dai! Eh, senti! Giocano a calcio, lo sport, i valori! Dormiva, dormiva! Dormi! Va sul lettino, no? Dormimo? Va sul lettino! E' l'apoteosi, raga! Lui dorme! Ha segnato Tsubasa! Ha spaccato tutto, porco due! Ha ferito anche Kojiro qua! Cioè, raga! Che cartone! Che cartone! Pazzesco! Pazzesco! E' emozioso! Pazzesco! 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 Sempre soprio io, eh! Dove andiamo? A me! Al mare? A me! A me! A me! Pazzesco! E adesso facciamo una giornata bambino e mamma al mare cambiandoci dentro la macchina! Pazzesco! Le bambino ha visto una cosa bellissima! grazie mille grazie ciao eccolo l'acquisto bellissimo sei un cucciolo di coccodrillo ehi 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 fanno così gli influencer starnutiscono e poi ehi che se fa le estrazioni dell'otto stanno a fare le estrazioni che numero è uscito una bella cosetta sulla spiaggia chiaramente mamma non è venuta vestiamo il cucciolo facciamo il bagno con i cantanti con i cantanti i bambini cantanti chi è che non sta facendo la dieta no questo è il mio zio no no è il tuo chi è che di lunedì si spara una frittura chi è si si e tu che mangi fare 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 ah 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 e se la c***o vovoo fa 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 celevi di coglioni ma perchè dici che mangiavo da li ah ci ha mangiato dove sta rimbendo incontrato la testa a scolo eh Sto cazzo Vaffanculo Oh smettila mi fai un cazzare Arvato c'è stato Se no Ti do una sediata Violenza Dunque alle 22 Sarò in diretta a fare una sorpresa Insieme a mio caro amico A Nonna Maria Quindi state tutti qua Ore 22 Voglio tutti belli carichi Contenta di vedere l'arrietta Berti Salutala Ciao Rietta Vanno e vieni in Umbria Vanno e vieni a mangiare le tagliatelle Saluta Tornata Incredibile Topazia Che hai messo l'asciugamano Di questa acqua fuori a casa tua Ma che moda metti Che ciabattina Ciabattina e asciugamano Andiamo a vero Quel cane E' un filo della miglia Perché? Perché qui Perché? Eccolo vè Guarda tu pazza Che Mui l'ha morto Vedrai tu C'è il filo della miglia C'è il filo Come è? Ti svegli? Tomo Marti questo portalo a casa Ti regalo Portalo a casa Magni stasera Prima di andare a dormire Ma non lo mani Dai prima di andare a dormire Dai Ma dai Ma dai Ma dai Ma dai Posso darglielo questo? Ma che mi frega A me Allora il butto per terra Via Tira Mannaggia il bambuccio Il voglio o no? Non è possibile Ma quando basta Basta Il voglio o no? E il butto via Toto Vuole fare il paninetto Dai No Coccodrilli Buonanotte E no Sinceramente Volevo dire una cosa Dopo mi dite che Le volte mi dilungo troppo Ma Sarà una cosa breve FAAA Buonanotte a domani